Amici telespettatori, ci troviamo nel cuore di Taranto, nel salotto buono, bello della città, via D'Aquino, piazza della Vittoria. Certo, questa immagine di degrado assoluto rappresentata da Palazzo degli Uffici certamente non ci entusiasma, ma deprime la bellezza della zona. Ma al di là di questo voglio sottolineare la pericolosità di questi paletti, dei dissuasori affinché non si parcheggi laddove è vietato il parcheggio. Furono installati con l'amministrazione Stefano e questi paletti di fatto, se da un lato hanno la funzione di far sì che il cittadino non parcheggi, però sono pericolosissimi perché i paletti ovviamente sono adiacenti, quasi attaccati all'area in cui transitano le macchine. E' una manovra, una minima manovra sbagliata e la macchina va a schiantarsi contro. Vedete per esempio questo paletto, lo vedete, è piegato perché evidentemente qualcuno è andato a sbattere. E allora, innanzitutto la cosa strana, che forse mi puzza tra virgolette anche un po', è che furono installati in quantità o sarei dire industriale, paletti, archetti, in tutta la città gettati così come formaggio sui maccheroni, così mi è sembrato. Allora io dico benvenga l'azione di prevenzione e di educazione, far sì che il cittadino non faccia i comodacci propri e non parcheggi così a come gli viene in testa, giusto per usare un'espressione popolare non molto elegante ma pregnante. Però qui stiamo parlando di sicurezza e non si può scherzare con la sicurezza. Guardate, ci spostiamo per esempio più avanti a dimostrazione di quello che vi sto dicendo, un altro paletto sul quale qualche macchina è andata a sbattere, è andato a schiantarsi e il paletto si è piegato e vi posso assicurare che questi non sono grissini ma sono belli pesanti, belli tosti e quando una macchina va a sbattere su questo paletto ci possono essere dei danni gravi anche ovviamente per chi sta nell'abitacolo della macchina. Ecco, vedete qui. Quindi voglio dire, allora a questo punto facciamo sì che i controlli dei vigili urbani siano molto ma molto penetranti, siano continui, siano sistematici e stanghiamo con le multe ovviamente chi, ripeto, fa i comodacci propri. Però questa è una soluzione assurda, ma qui guardate quanti paletti, ma dico questa zona così come potremmo trovarne altrettante nella città di Taranto, sembra quasi che si possa fare lo slalom di sci, guardate, sembrano i paletti per lo slalom dei percorsi delle gare di sci. Ecco, ho voluto sottolineare questo perché, credetemi, è davvero triste vedere tanti paletti abbattuti e tante macchine che si sono schiantati contro di essi. La prevenzione, l'educazione ben venga, ma ripeto, il rimedio non deve essere peggiore del male. Allora rimuoviamo questi paletti per la sicurezza di tutti e poi aumentiamo il controllo dei vigili, delle forze dell'ordine per stangare, questo sì, senza misericordia, chi parcheggia laddove è vietato il parcheggio o la sosta.